salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ormai sono quasi due anni perché a novembre saranno due anni che sono uscite le console di nuova generazione cioè la is box serie x e la ps 5 e con l'avvicinarsi del loro secondo natale sicuramente questi prodotti nel periodo natalizio ovviamente dove danno il meglio di sé dal punto di vista delle vendite e ancora oggi dopo due anni però siamo qua a domandarci meglio acquistare is box serie x o ps 5 io ragazzi ho acquistato is box serie x e oggi cerco di spiegarvi perché ho scelto is box serie x anche se non c'è un motivo per cui ragazzi acquistate quella perché è meglio dell'altra no qua siamo in un mondo completamente diviso come può essere iphone android per i telefoni mac e windows per i pc qua ragazzi è la stessa identica cosa non c'è una console che prevalica sull'altra ci sono solo delle motivazioni personali che secondo me vanno valutate quando andiamo ad acquistare e oggi appunto cercherò di spiegarvi perché io ho acquistato is box e non ps 5 allora partiamo dalla reperibilità come sapete ps 5 a distanza di due anni non è ancora reperibili in maniera semplice o bisogna mettersi in coda a delle liste nei vari store ufficiali o sennò bisogna andarla a comprare da degli store si reali ma che aumentano il prezzo in maniera anche abbastanza importante perché comunque queste console di partenza avevano un prezzo praticamente uguale xbox serie x 499 euro e playstation 5 499 euro circa un mese fa però playstation ha aumentato il prezzo della sua ps 5 di 50 euro quindi adesso la ps 5 costa con un prezzo ufficiale di 549 euro quindi 50 euro più di xbox ma questo non è abbastanza il problema è il prezzo che viene pompato dai vari rivenditori che la vendono intorno ai 750 800 850 euro che realmente ragazzi è una truffa e una ladrata incredibile perché comunque ps 5 non vale più di xbox dal punto di vista delle prestazioni delle caratteristiche del risultato finale dell'utilizzo anzi sotto certi aspetti xbox magari è pure meglio però è moda e ps 5 è moda ed è questo che rende possibile appunto speculare così tanto su quella console un po come succedeva con gli iphone quando si facevano fatica a trovare quindi erano venduti sui vari store a prezzi più alti di quello che era il suo prezzo reale cioè un po' è una cosa di questo tipo quando un prodotto diventa moda è facile poi andare a specularci sopra allora questo era il discorso reperibilità e come avete capito xbox serie x attualmente la si riesce a trovare tranquillamente nei vari store ufficiali e già questa è una cosa da non sottovalutare il prezzo l'abbiamo appena detto e poi un discorso da non sottovalutare che a me importava davvero tanto era anche l'aspetto estetico e il design della console xbox serie x ha un aspetto veramente semplice microsoft ha voluto apposta creare una console che si integrasse nell'ambiente nell'abitazione sopra i mobili cioè che non fosse un oggetto appariscente infatti ha fatto una console secondo me bellissima minimal ed è una cosa che mi piace veramente un sacco ed è uno dei motivi per cui comunque ho optato anche per xbox mentre ps5 ha questa linea diciamo di un oggetto che deve apparire e deve farsi vedere con dimensioni molto importanti con un design con un colore bianco e nero che attira l'attenzione ma soprattutto con una forma molto particolare e dimensioni importanti mentre xbox ragazzi guardate come si integra bene nel mio mobile della sala dove ovviamente c'è tutto c'è il surround c'è la switch c'è il giradischi e ragazzi c'è un'integrazione totale quindi quando arriva qualcuno nella mia abitazione non dice ma cos'è l'oggetto lì che non c'entra un cavolo con tutto il resto no ragazzi è perfettamente integrato perché comunque anche xbox come prestation si possono mettere sia verticale che orizzontale e vi assicuro che avere una console che comunque dovete lasciare in sala per tanto tempo perché comunque quando la si acquista non è che è un oggetto che lasciate lì due o tre giorni quindi è un oggetto che rimane lì parecchio parecchio tempo magari anche anni quindi più integrato è in quello che è il contesto della vostra abitazione secondo me meglio è e questo soprattutto per mantenere un'armonia familiare con il sesso femminile un altro discorso che va valutato all'acquisto è sicuramente la retro compatibilità xbox da questo punto di vista tanta roba perché ha reso la sua console compatibile con tutte le console passate partendo dalla prima xbox passando poi a disbox 360 a disbox one ragazzi lei è completamente compatibile con tutti i giochi che poi potrete utilizzare scaricare tranquillamente con il game pass ma di questo parleremo tra poco ps5 qua invece molto più limitata nel retro compatibilità dei giochi quindi da questo punto di vista sicuramente isbox tanta tanta roba in più isbox anche dal punto di vista del controller ovviamente qua abbiamo un controller nuovo nell'isbox serie x anche se il design e l'aspetto ricorda sempre i suoi predecessori che rimangono compatibili con lei se avete un controller della serie 360 ragazzi è compatibile con questa isbox se avete un controller dell'isbox one è compatibile con questa console e questo ragazzi è un altro aspetto da non sottovalutare se avete già dei pad in casa mentre con playstation non succede bisogna con ps5 avere il suo nuovo controller è vero che il nuovo controllo ps5 un controllo che sembra più curato più finito isbox è un po più grossolano però dal punto di vista dell'utilizzo vi assicuro che tanta tanta roba anche questo controllere di casa isbox anche se sembra un po più grossolano meno curato meno fine rispetto a quello che è il nuovo controllo della ps5 parliamo di quello che sono le prestazioni e le sue caratteristiche tecniche entrambi ragazzi hanno bene o male le stesse caratteristiche tecniche le prestazioni molto simili isbox è un pochino più performante fatta con i vari test che sono stati fatti sempre da chi le diciamo le analizza fino in fondo però sul risultato finale ragazzi abbiamo bene o male lo stesso prodotto nessuna delle due è superiore all'altra nessuna delle due è inferiore all'altra siamo molto simili per quanto riguarda appunto le caratteristiche e le performance delle due console quindi da questo punto di vista è sicuramente un pareggio e poi abbiamo di sicuro da valutare quello che sono le esclusive cosa vuol dire esclusive che le console al giorno d'oggi si basano molto sulle esclusive cioè alcuni giochi vengono prodotti solo per quel marchio di console ed è questo sicuramente una cosa che fa pendere molto l'acqua dalla bilancia da un prodotto all'altro se quelle esclusive ci interessano ovviamente nel mio caso personalmente per quanto riguarda le esclusive ps5 non mi interessavano quindi non era uno di quei motivi che mi avrebbe fatto scegliere ps5 quindi non l'ho messo in considerazione ma tanti utenti sicuramente hanno la necessità di utilizzare o meno un determinato gioco che è di una console o di un'altra non so per esempio ps5 a gran turismo 7 ovviamente qua non l'abbiamo qua però abbiamo forza horizon 5 un gioco di macchine altrettanto incredibile qua abbiamo halo che però non è disponibile su ps5 su ps5 abbiamo spiderman che qua non è disponibile e poi altri giochi che sicuramente ps5 ha come esclusiva mentre is box come esclusive ne ha sicuramente qualcuna in meno anche se tante sono in arrivo con il nuovo anno e dall'anno prossimo potrebbe cambiare come esclusiva magari anche lui quello che è call of duty perché come sapete microsoft sta acquistando un sacco di software house quindi acquistando activision blizzard potrebbe prendere come esclusiva call of duty o magari decidere comunque di distribuirlo anche per ps5 ma questi sono altri discorsi quindi per quanto riguarda appunto il discorso esclusivi dipende molto da questo perché poi ci sono un sacco di giochi che sono la maggior parte dei giochi che utilizzo io che non sono esclusiva né di uno né dell'altra non so fifa che è il mio gioco preferito ovviamente non è esclusiva di nessuno call of duty come abbiamo appena detto attualmente non è esclusiva di nessuno assassin grid che uscirà adesso con il nuovo anno la nuova versione di questo gioco che secondo me è strepitosa anche questa non è esclusiva di nessuno quindi dipende molto da questo il discorso esclusive se vi interessano o meno di una o dell'altra discorso che a me piace molto è anche le interfacce con cui si impongono le console dal punto di vista grafico nel loro menu del software di gestione della console box a me è sempre piaciuta di più perché io sono un diciamo più un fan di sbox perché sono partito con la prima box poi sbox 360 poi ho abbandonato sbox con quando è uscita la one ho preso ps4 e poi invece sono ritornato a sbox con la serie x quindi io ho sempre preferito un po' di più sbox e quindi come stavamo dicendo l'interfaccia grafica di sbox a me piace sempre tanto è intuitiva è facile non è complessa nei menu quindi un altro aspetto che a me piace molto almeno per i miei gusti personali perché ovviamente alla fine di tutto quello di cui stiamo parlando oggi sono gusti personali come abbiamo detto perché a livello di prestazioni siamo molto molto simili un vantaggio importante che abbiamo con xbox è questo xbox game pass è questa diciamo funzione che ha xbox che ci permette di accedere ad un catalogo ovviamente pagando mensilmente una cifra che nella versione quella top è di 12 euro e 99 che è quella che ovviamente vi consiglio perché ci dà la possibilità uno di giocare online senza pagare un altro abbonamento e la possibilità di scaricare nell'hard disk della nostra console un sacco di giochi ma non giochi quelli vecchi quelli passati ovviamente ci sono anche quelli perché possiamo andare a scaricare i giochi della prima xbox del xbox 360 ma potremmo scaricare un sacco di giochi di quelli arrivati da poco sul mercato infatti vi faccio vedere quelli che ho installato io in questo momento cioè guardate di tutti questi giochi che vedete qua l'unico che ho acquistato separatamente perché non era possibile attualmente scaricarlo col game pass è fifa 23 ma tutti gli altri forza horizon it takes two i guardiani della galassia mortal combat sniper elite 5 cioè veramente cioè guardate che scelta di giochi che ho potuto scaricare e ce n'è ovviamente una lista infinita adesso vi faccio vedere giusto per farvi capire perché è giusto anche che capiate cos'è game pass è una di quelle cose che potrebbe far molto pendere l'ago della bilancia nella scelta cioè guardate che possibilità appena arrivato da circa due giorni questo persona 5 e royale che è attesissimo e anche questo scaricabile gratuitamente perché comunque non paghiamo il costo del gioco che come sapete comunque un gioco può costare dei 50 60 70 euro e avete un gioco solo qua pagate 12 euro 99 al mese ma avete la possibilità di scaricare un'infinità di giochi e soprattutto la possibilità di avere giochi che si aggiungono in continuazione giocare a giochi vecchi e poi la possibilità anche di giocare online che è incluso in questo 12 euro 99 e questo servizio di microsoft è sicuramente un servizio pazzesco dal punto di vista dell'utilizzo di una console di nuova generazione che ha un hard disk che viaggia di brutto e un'altra cosa non sottovalutare appunto avendo la possibilità di scaricare tanti giochi di provarvi dicendo è qui che resume che ha microsoft c'è la possibilità di giocare a un gioco esco torno nel menu una volta che torno nel menu principale cioè questa schermata scelgo l'altro gioco e via parte subito cioè non lo carica neanche parte da dove mi ero fermato cioè ma non dal salvataggio proprio da dove ero uscito in quel momento dal gioco cioè è fantastico questo passaggio velocissimo senza tempi di caricamento è veramente allucinante se poi pensiamo che game pass ce l'hanno attualmente 25 milioni di utenti capite che è un servizio che sicuramente funziona e microsoft lo sta sfruttando benissimo ps5 ci sta arrivando adesso perché comunque ha capito che erano di quei servizi che faceva scegliere is box piuttosto che playstation adesso ho lanciato questa nuova versione di playstation plus che è un servizio simile ma che non c'entra ancora niente con questo non abbiamo giochi nuovissimi non abbiamo un catalogo di questo tipo cioè è ancora acerbo non è detto che mai diventi così quindi per adesso questo servizio xbox almeno due o tre passi avanti lo è sicuramente poi con entrambe c'è la possibilità di giocare da remoto cosa vuol dire che se noi andiamo installare l'applicazione xbox nel nostro smartphone o tablet o l'applicazione ps5 nel nostro smartphone o tablet possiamo giocare direttamente nel nostro telefono nel nostro tablet alla nostra console cioè il nostro dispositivo si collegherà tramite la rete internet alla nostra console quindi viaggeremo all'interno di questo menu con i nostri giochi le nostre preferenze cioè tutto sarà un viaggiare con il controller che viene abbinato perché comunque lui si abbina tramite bluetooth a un telefono android a un iphone a un ipad o un tablet android quindi potremo con il nostro controller utilizzare il menu e giocare e via dicendo stando ovunque basta che ci sia una rete internet performante quindi che sia una rete internet 4g che sia una rete internet fissa e quindi potremo stando ovunque utilizzare la nostra console che nel nostro salotto di casa o nella nostra camera e questo è veramente pazzesco cioè è allucinante sia per una che per l'altra proprio il concetto di dove si è arrivati questa possibilità che è davvero allucinante e poi c'è la possibilità è invece cloud che viene data da is box che non è anche questa una cosa sottovalutare cos'è la possibilità di utilizzare i giochi direttamente da un cloud di microsoft questo lo si può fare tramite pc tramite telefoni android non è supportato attualmente telefoni iphone o ipad quindi solo dispositivi android o pc o ragazzi con la nostra is box infatti se io dovesse entrare dentro a is box game pass e questa funzione cloud è sempre inclusa in is box game pass quindi noi possiamo avere questo servizio anche se non abbiamo un box e sia chiaro quindi possiamo andare a utilizzare un gioco supponiamo di utilizzare questo che non ho installato ma è vedete che c'è installa perché non l'ho installato ma mia figlia lo sta utilizzando come lo sta utilizzando lo sta utilizzando da qua su riproduci vedete che c'è una nuvoletta se io vado a cliccarci sopra vedete cloud gaming questo cosa vuol dire che il gioco parte da un cloud quindi non viene installato il gioco nella console non ci occupa spazio e possiamo giocare tranquillamente e ovviamente il caricarsi del gioco e tutto sarà in proporzione alla rete internet tutto questo in versione beta infatti vedete che lì in altro c'è scritto beta perché è un servizio che non è partito da tantissimo il gioco sta iniziando questi tempi di caricamento del gioco variano ovviamente in base al tipo di gioco e alla rete internet quanto è performante ma vedete che ormai il gioco sta per partire se io vado a cliccare a il gioco adesso faccio l'accesso e dovrebbe iniziare il caricamento in corso e il gioco a questo punto partirà eccolo qua che è partito e questa è un'altra cosa interessante uno perché aspettate che esco da qua e questo è interessante perché uno possiamo provare tutti i giochi di questo game pass senza installarli tutti che comunque installare un gioco al giorno d'oggi sapete che sono tanti giga quindi occupano un sacco di spazio nel nostro hard disk che è di un terabyte però con quello che sono le dimensioni giochi al giorno d'oggi non è che ci voglia tanto andarlo a riempire quindi potremmo provare tutti questi giochi che ci sono su game pass perché poi magari sono giochi che non ci interessano magari li proviamo poi diciamo no vabbè non è il mio genere e via quindi li possiamo provare così velocemente poi se dovessero proprio piacerci allora magari ce lo scarichiamo ce lo teniamo installato quindi ragazzi questo era solo un video perché so che ormai il natale non è così lontano e stanno pensando di acquistare una delle due console io vi ho spiegato perché ho scelto Xbox cosa Xbox secondo me più di PS5 quali sono le mie motivazioni per cui ho scelto Xbox poi come ho detto una non è meglio dell'altra una non è peggio dell'altra ed è questa la cosa brutta perché se fosse stata una meglio dell'altra era facile scegliere qua bisogna scegliere non tanto le prestazioni delle due console quanto quello che sta intorno alle due console che sia l'estetica che sia la disponibilità che sia il prezzo che sia appunto le funzioni i servizi che ci vengono dati cioè tutto questo è quello che realmente fa pendere l'ago della bilancia sulla scelta di queste console mentre lei Nintendo Switch è una cosa a parte lei vive per delle caratteristiche sue ha delle funzioni sue non è performante come le console Sony e Microsoft ma vive di titoli suoi ha dei titoli veramente unici che solo Nintendo ha e ovviamente lei ha un mercato suo che si affianca le altre due console ma è un prodotto che ci sta affiancato appunto ad una delle altre due console cioè lei completa veramente l'utilizzo del gaming mentre le altre due si sovrappongono e bisogna un po' scegliere quale mentre lei ovviamente ha un'identità sua quindi può stare tranquillamente integrata nel nostra idea di gaming e di videogioco appunto per le possibilità che ci viene data sia come utilizzo che come appunto disponibilità di giochi solo Nintendo quindi ragazzi spero di essere stato chiaro su perché io ho scelto Xbox e non PS5 se tutto questo mio video vi è stato utile vi è piaciuto e l'avete trovato interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità spoiler location dove vado a far volare i miei droni tantissime cose arrivano su Instagram quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram sempre se vi va ragazzi iscrivete al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi anche un video un volo una recensione un test un tutorial o novità ciao al prossimo video